Intervento di manutenzione straordinaria questa mattina nella chiesa San Gaetano a Biancavilla. Ad intervenire sono stati gli operai chiamati dal parroco della chiesa madre, Don Agrippino Salerno. I lavori di messa in sicurezza si sono resi necessari a causa degli ultimi eventi meteo, con forti folate di vento che hanno provocato il distacco di cornicioni ed un leggero cedimento della croce posta in alto all'edificio sacro risalente al 700. Per tutta la durata dei lavori la strada è rimasta chiusa al transito veicolare grazie all'intervento della Polizia Municipale. a presenziare i lavori lo stesso Don Agrippino Salerno. Dopo le ultime intemperie necessita controllare le nostre chiese ed è veramente un impegno oneroso, ma soprattutto è giusto per la sicurezza delle persone già che la chiesa è frequentata. Sì, abbiamo visto che con i venti forti la croce del campanile si muoveva e quindi poteva cadere, allora l'abbiamo rinforzata e il cornicione dove ci sono i pluviali che presentano un po' di gonfiore per le acque sono ora rinforzati in modo tale che non ci siano cedimenti. È chiaro che non siamo abituati qui alle intemperie così improvvise e soprattutto anche alle nostre chiese che hanno una bella età. La chiesa di San Gaetano risale a 1722, anzi è ancora all'impiede come tante altre chiese e questo è il nostro dovere, conservare il patrimonio e far sì che i posteri possano goderne.